Un cordiale saluto. Un saluto, bentrovati. In questo appuntamento settimanale con la rassegna di periodici del territorio di Belluno faremo un piccolo viaggio tra le pagine di tre realtà differenti che parlano di appartenenza, di radici, di volontariato, di cura, di premura per l'altro, proprio attraverso la presenza sul territorio delle diverse e molte associazioni che ci sono. Iniziamo questo nostro piccolo viaggio in questa puntata con Bellunesi nel mondo, la rivista dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Interessante a pagina 5 un qualcosa che non tocca direttamente la nostra terra di Belluno ma che parla di radici. È la visita che Papa Francesco ha fatto alla sua terra di origine. Qui nella foto vediamo anche l'incontro alla visita privata che ha fatto la cugina Carla Rabbezzane in occasione dei suoi 90 anni. Interessante nell'articolo di Maurizio Busatta alcune note degne di interesse. Il Papa celebra messa nella terra d'origine della sua famiglia. Da qui dice, mio padre è emigrato in Argentina e in queste terre, rese preziose da buoni prodotti del suolo e soprattutto dalla genuina laboriosità della gente, io sono venuto a ritrovare il sapore delle radici. Queste sono le parole del Papa. Intervistato poi dal quotidiano La Stampa, quotidiano nazionale, con acutezza il Pontefice affronta il tema delle radici e dice che le radici sono fondamentali per due aspetti. Il primo è un aspetto culturale, mai dimenticare e rinnegare le proprie radici culturali. Il secondo è un aspetto familiare, bisogna sempre alimentare e valorizzare le proprie radici familiari. E' fondamentale tenere vivo il rapporto con le radici per la nostra crescita culturale e sociale e anche per lo sviluppo della nostra personalità. A conclusione dell'articolo, Maurizio Busatta nota a dispetto della globalizzazione il viaggio nel futuro inizia su queste basi e si nutre partendo proprio dal senso di appartenenza. Ecco, proprio questo articolo che riporta questa visita del Papa nella sua terra di origine, ci mostra l'importanza dell'appartenenza delle radici. E la stessa importanza e legame con le proprie radici è espresso anche nell'articolo seguente, un'intervista a Daniele Tolotti, un bellunese in Argentina. Lavora per un'azienda bellunese a 48 anni e ha deciso per un cambio di vita e con la famiglia, moglie e figlio di 13 anni, ha fatto le valigie diretto in Sud America. Dice che ha già fatto diverse esperienze in giro per l'Europa e anche in America, ma questa è la prima volta che si sposta, dice che ci spostiamo tutti e tre assieme con la sua famiglia e con residenza stabile fuori dall'Italia. Racconta tra domande e risposta un po' quello che ha trovato, le difficoltà anche iniziali nel primo tempo in cui si è trovato in Argentina e poi alla domanda cosa le manca di Belluno e lì dell'Italia, risponde le mie montagne mi mancheranno per sciare e ovviamente mi mancano anche gli affetti, i familiari che ha lasciato qui nella sua terra. E un consiglio che vuole dare ai giovani, credo che andare incontro a nuove visioni sia una cosa fondamentale, tenendo però sempre a mente la possibilità di rientrare nella propria terra. Questo è un consiglio che nasce proprio dal cuore, tenendo conto che le radici proprio non si possono mai perdere di vista, perché una persona che non sa da dove viene, fondamentalmente non sa dove va, perché non sa dove si trova. Girando ancora pagina, una nota sulla ventiduesima edizione del Premio Internazionale Bellunesi che onorano la provincia in Italia e nel mondo. L'edizione 2022 si è tenuta a sedico, ha passato il testimone dalla MON l'anno scorso a quest'anno a sedico. Degno di nota quello che afferma il Presidente della provincia, Roberto Padrin, quando dice che ci sono pezzetti di Belluno in giro per il mondo, emigranti che hanno avuto tanto successo. Voglio credere che sia stata la montagna a forgiare il loro carattere e a farne grandi donne e grandi uomini. Ecco, questa è una sintesi di questa ventiduesima edizione del Premio Internazionale Bellunesi che onorano la provincia in Italia e nel mondo. La rivista poi prosegue, anche qui da segnalare un fatto che ha portato sicuramente una negatività nella nostra provincia, soprattutto per la famiglia e per l'economia, l'incendio alla MON che ha devastato l'8 novembre scorso l'albergo-ristorante Locanda-Ponte Serra, proprio in località Ponte Serra a LAMON, in comune di LAMON. L'articolo ricorda quanto è successo, c'è anche una foto dell'incendio che ha devastato proprio la struttura ricettiva. È stato un risveglio da incubo quello dell'8 novembre per Davide Pante e Deborah Riga, che sono la coppia che gestisce la Locanda, proprietario dell'albergo Locanda-Ponte Serra a LAMON, ma è stato un giorno di dolore per tutta la comunità di LAMON. Un furioso incendio scoppiato in piena notte e visto attorno alle 5 del mattino ha praticamente distrutto l'edificio vecchio di 160 anni, edificio storico, ma ristrutturato completamente da Davide e Deborah negli ultimi 4 anni. Era stato proprio inaugurato 4 anni fa. I proprietari però non si sono abbattuti e sperano di poter mettere di nuovo mano all'edificio per farlo ritornare allo splendore del passato. Enorme la solidarietà che i due giovani hanno riscontrato in queste settimane dopo l'incendio. Quindi una storia negativa sicuramente, ma dalla quale la testimonianza dice che può rinascere qualcosa di nuovo con la volontà e la voglia di fare. Questo è Bellunesi nel mondo, poi naturalmente altri articoli e altri contenuti possono essere sfogliati. Ci spostiamo ora nel Feltrino, il donatore, Associazione Feltrina Donatori Volontari in Sangue. L'articolo di fondo in prima pagina è del Presidente, Saverio Marchette. Ricorda e segnala prima di tutto un grazie, facendo un bilancio del 2022, un grazie a tutti voi anche quest'anno, dice abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo proposti in accordo con il Centro Trasfusionale, il Centro Regionale Attività Trasfusionali e il Centro Nazionale Sangue, superando le 4.000 donazioni di sangue intero. Un altro obiettivo raggiunto, dice, è stato l'aumento delle donazioni di plasma. Ancora più avanti, un grazie lo rivolge al gruppo Giovani per il prezioso lavoro e ricordiamo loro che sono sì il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. Per ultimo e non da ultimo, un grazie alla dottoressa Barbone e tutto il personale medico e paramedico del Centro Trasfusionale di Feltre. La nostra sinergia operativa si è dimostrata ancora una volta uno strumento potente ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi che ci poniamo nella nostra programmazione annuale e proprio a fianco dell'articolo di Saverio Marchet c'è proprio un breve articolo della dottoressa Ersilia Angela Barbone, la quale sottolinea che con grande soddisfazione comunica che quest'anno, al 21 ottobre 2022 passato, le donazioni di plasma hanno già raggiunto e superato le 200, consentendoci di sperare che alla fine dell'anno avremo conseguito l'obiettivo che ci è stato assegnato dalla Regione. Per questo risultato ringrazio tutti voi donatori e donatrici, l'Associazione e tutti i capi sezione che hanno contribuito a diffondere le informazioni e sensibilizzare sulla necessità di donare plasma senza trascurare le donazioni di sangue intero di cui non è mai venuta meno la necessità. Quindi un bilancio decisamente positivo. Poco più avanti, notizie dalle varie sezioni, da segnalare la sezione di Pedavena che ha ricordato il suo settantesimo anniversario di fondazione. Era il 1952 quando un gruppo di 10 dipendenti della bireria di Pedavena raccolse l'invito del signor Pietro Luciani per creare un gruppo di donatori di sangue disponibile alla donazione quando il nostro ospedale ne faceva richiesta. Oggi tutta la comunità di Pedavena, proprio insieme all'Associazione dei Donatori di Sangue, conta circa 200 soci attivi. L'ultimo accenno degno di nota è quanto è stato fatto nella scuola primaria del comune di Fonzaso. Lunedì 30 maggio 2022 tutti gli aglunni e gli insegnanti della scuola primaria di Fonzaso hanno potuto assistere ad uno spettacolo teatrale presso il centro Papa Luciani. Lo spettacolo era intitolato Che occhi grandi che hai ed è stato offerto proprio dall'Associazione Donatori di Sangue di Fonzaso. Come conclusione di un apprezzato progetto nominato Una goccia tanti auguri, che ha visto partecipare le classi quarta, tempo pieno, quinta tempo pieno e quinta tempo normale di Fonzaso. La caposezione Roberta Paoletti e due volontarie Gloria Vieceli e Camilla Pasa sono intervenute a scuola nel mese di aprile e hanno ottenuto una lezione ai ragazzi in merito proprio all'importanza del dono e al valore di questa azione. Hanno sensibilizzato poi gli alunni, proponendo loro di creare un disegno che è poi diventato una cartolina da inviare proprio ai donatori di sangue della sezione di Fonzaso in occasione del loro compleanno. I docenti, durante le ore di arte e immagine, hanno accompagnato gli alunni nella produzione di questi elaborati. E' stato un momento molto gradito dagli allievi e apprezzato dai genitori ed insegnanti, in quanto ha avvicinato i ragazzi al mondo dell'associazionismo locale e ha permesso loro di riflettere sull'importanza della gratuità della donazione e dell'aiuto al prossimo. Un ultimo cenno al periodico del Centro Italiano di Solidarità di Belluno, Passaparola, degno di nota all'articolo che ricorda i 40 anni di nascita del CEIS di Belluno. Don Gigetto scrive «C'era una grande voglia di dare risposta a una dipendenza galopande e paurosa, quale era quella dell'alcol e delle droghe nel 1982». C'era necessità di una comunità residenziale e di lavoro anche coi genitori. Poi si rese subito disponibile anche l'Ana Bellunese con i suoi alpini, l'associazione è rimasta fedelissima a noi fino ad oggi che ci tiene molto. La risposta sociale e istituzionale fu abbastanza rapida e coinvolgente. Infine ricorda come il percorso personale di ricerca è prima di tutto umano e proposto sui valori del Vangelo, ma la narrazione di una storia di vita libera e splendida che è proprio il Vangelo, quella di Gesù di Nazareth, talmente libera nel dono di sé fino a dare la propria vita per il bene di tutti. Quindi il criterio con il quale sostanzialmente ancora oggi si guida il CES di Belluno. Un ultimo aspetto, il ricordo di Diego Tricchess che molto ha fatto per il CES di Belluno. Il 21 novembre mattina è morto l'imprenditore castionese Diego Tricchess, padre di Marte d'Enrico, che fa parte del CEIS e della fondazione presente nel direttivo. Don Gigetto al momento del commiato nella chiesa di Castion ha ricordato e ha detto queste parole. Ieri mattina, ricordandoti nella messa, mi è venuto davanti il tuo volto sorridente e mi sono apparse tre tue doti, doti rappresentate da tre parole che cominciano per la stessa lettera A. La dote di apprezzamento, avevi sempre uno sguardo positivo e incoraggiante sulle proposte. La parola aiuto, sostegno alle attività, al loro aspetto associativo e comunitario. La parola attesa, grande attenzione e preparazione all'incontro con le persone per accoglierle bene. In penultima pagina, a conclusione del periodico, di questo numero del periodico, c'è una segnalazione sul nuovo corso in partenza a febbraio 2023 per gli operatori sociosanitari. E' un percorso impegnativo, ma un percorso che chiede e si pone a risposta del bisogno di garantire assistenza a malati, disabili e anziani in strutture a domicilio ed è un bisogno molto concreto, la cui unica risposta possibile è che vi siano donne e uomini che vogliono intraprendere questa professione. Quindi un impegno sicuramente che chiede fatica, studio, preparazione, ma che poi può donare qualcosa che semina naturalmente segni di bene nella nostra terra bellunese e non solo. Con questo abbiamo concluso la rassegna per questa settimana, in questo appuntamento. A me non resta che augurarvi una buona continuazione e un buon proseguimento con Telebelluno. Grazie. 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 Grazie.